Cremona ha origine antichissime. Gli storici locali fanno risalire la sua fondazione al 218 a.C., data in cui i romani la costruirono con la funzione di vera e propria città scudo, a protezione dell'impero contro l'avanzata del celeberrimo condottiero cartaginese Annibale. Cremona è stata fondata nel maggio del 218 a.C. E qual è la ragione della fondazione di Cremona? La ragione fondamentale espressa in lo tempore e ancora adesso citata nei testi è per difendersi dal pericolo dei Celti o Galli, che abitavano già la pianura padana e l'Italia. Però c'era un'altra ragione molto più importante, probabilmente. Infatti, nello stesso anno arrivò Annibale. E allora ci fu proprio il conflitto tra i romani e Annibale. Annibale non attaccò Cremona, che era già stata fortificata, sempre in questo anno citato, insieme a Piacenza. Ma ritrovò l'esercito al Ticino, sempre nel 218 novembre. Quindi è chiaro che è posteriore l'arrivo di Annibale alla fondazione. E nella battaglia del Ticino vinse Annibale. La città esercitò perfettamente la sua funzione, contrariamente a quanto accadda a Piacenza. Infatti, grazie ai solidi bastioni eretti dei romani, essa riuscì a resistere ai potenti assalti che subì in quegli anni. Nel 200 a.C. una coalizione dei Galli, di tutti i Galli padani, attaccarono Cremona, che però resistette nel 200 a.C., mentre Piacenza fu attaccata e fu demolita. In tal senso, tra gli studiosi si dibatte sulla genesi delle mura attualmente presenti in Porta Mosa, che secondo qualcuno andrebbero fatte risalire proprio a questi avvenimenti storici.